La natura è stata fondata su un prinsipo di Bidrock e siamo tutti creati in un paese. Seneca Falls, Selma e Stonewall. L'ordineo di persone possono fare cose straordinari. Ti ho già inquadrato. Sei cresciuto nel Kansas e Mammina probabilmente ti preparava le torte di mele. Lui è Danny. Benvenuto a New York. Siamo un'organizzazione che lotta per i diritti degli omosessuali. Questa è una retata. Tutti contro il muro. Che hai da guardare, Finocchio? È questo che noi combattiamo. Per c'è non fate niente, aiutatemi! Ma dobbiamo combattere in maniera pacifica e respingere il radicalismo che vedo prendere piede. non ho visto avverarsi un solo sogno su Christopher Street, tesoro. Non hanno più niente da perdere. faremo una parata per commemorare la lotta e la chiameremo marcia della liberazione omosessuale. Vengo anche io. Non è questo il modo, Danny. Questo è l'unico modo! Non è questo il modo, non è questo il modo.